Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi, oggi vi spiego come trovare e uccidere quel drago, il necro drago Molto semplice trovarlo, dirigetevi qui a città eterna, molto semplice, basta andare alle rovine del tetrobosco E se trovate quella specie di ascensore che vi porterà in quella città, questo al pozzo sul fiume, e vi porterà qua sotto Poi vi fate un bel giretto, vi trovate là al punto di grazia, qui al Nocron E poi un po' più giù c'è un boss da uccidere, che sarebbe gemello là, come era la lacrima riflessa, questa qua Una volta uccisa proseguite su questo ponte, ecco come qui Poi vi dirigete qui ai boschi ancestrali, prendete la capretta e dirigetevi da questa parte dove stanno qua le capre, che sono queste cose che cantano Dirigetevi da questa parte, superate quel piccolo bosco, come sto facendo io Ecco qua, qua sopra, non vi sbagliate come ho fatto io che sono sceso giù Vi buttate qua sotto, un po' più avanti c'è il punto di grazia, quindi toccatelo Prendete la capretta e buttatevi qua sotto Una volta fatto, proseguite da questa parte, mi raccomando fate attenzione perché qui ci sono i due cavallieri rompicazzi Veramente rompicazzi quei due cavallieri, uno con lo scudo e un altro invece con la lancia Qui invece ho sbagliato la strada ma se volete continuare a proseguire, qui troverete molte altre cose Girate da questa parte, e dovete entrare lì dentro Qui dentro dovete entrare E più avanti troverete i due gargoyle da uccidere Perché una volta ho ucciso i due gargoyle Io pensavo che è tutto qua, ho fatto subito subito che è tutto qua Finisce fino a qua, è questa cascata Poi ho trovato quel sarcofago Quello è il posto, ho trovato il sarcofago E cosa ho fatto? Cosa ho fatto? Mi sono avvicinato a quel sarcofago e mi ha portato in quell'altra terra Tra le radici dell'albero Qui, proprio qui Perché qui troveremo la donna che Dobbiamo stringerci a lei Eccoci arrivati Molto semplice Abisso tra le radici Toccate il punto di grazia Ora fatevi veramente un bel giretto Il posto dove andare è qui Oltre le radici Tanto dovete salire qua sopra Sulle radici Qua c'è sui rami dell'albero Qua E vi porterà proprio qui a questo punto di grazia Entrate là dentro Tanto non vi serve supporto Perché qui all'inizio Incontreremo dei tizi da uccidere Che sembrano dei giocatori Invece so bot Una volta uccisi Andiamo da lei A parlare A stringerci a lei A fare quello Che ci pare A confessarci E niente Ci facciamo stringere Parliamo un po' con lei E niente Poi andiamo al punto di grazia E facciamo un'altra cosa Acceleriamo il tempo Fino ad arrivare alla notte E troveremo lei Tutta addormentata Perché quando lei Sta addormendo Ci avviciniamo a lei Zitto zitto Fate silenzio Entriamo nel suo sogno Eh già Entriamo nel suo sogno Adesso vi faccio vedere Che cosa Succede Guardate un po' Acceleriamo il tempo Fino alla notte Mi alzo Mi avvicino a lei Che sta dormendo Entrare nel sogno di morte Certo Giù le mani Giù le mani Eh Eccoci arrivati Zitti zitti Eccolo qua Il necrotraco Fortisax Fatto a pezzi Vabbè Era molto semplice Per me Io sono livello 250 Ho chiamato anche Il mio gemello L'abbiamo fatto subito Subito Quindi ragazzi Se volete continuare A guardarlo Eh Se il video vi è stato utilissimo Lasciate il like Iscrivetevi al canale Attivando la campanellina E noi ragazzi Ci vediamo Ad un prossimo Tutorial Ciao Ciao Ciao